Il numero 23, il suo intanto sta traslare, il numero 24, King, King Revolution! Il numero 34, il suo per l'asun, il nostro amicizzo, a Edo Alessandrero, si va a teoria! Il numero 24, il professor Nathalie Obrinato, come un problema! Il numero 23, 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 il numero 23 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no 1, 2, 3! Gaudin! Ricci! Ricci! Keep playing, keep playing, keep playing! Move, move, corte, corte, corte! Look, look, look! Lo tiene cogido! Lo tiene amarrado! Let's go! Go! Go, go! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Rebound! Rebound! – – – – – – Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 a tutti.